Musica Ciao Ciao Buon viaggio Qui in via d'Azeglio Stanotte verso le 3, 3 e mezza Sono svegliato E ho una compagna che sentiva l'acqua in casa sono andato giù e c'era già quasi un metro d'acqua adesso mi hanno detto che l'acqua è più o meno stimata su 2,70 metri a casa non si può entrare non si sa quando possiamo rientrare non sappiamo i danni, le auto sono messe siamo in attesa di notizie sperando che l'acqua vada via non si può entrare non si può entrare non si può entrare